Salve, sono Alberto Di Felice e allevo Capre Mursiane a Bauladu, in Sardegna. Nella mia azienda utilizzo un impianto di somministrazione dei concentrati automatica. Utilizzo questo tipo di tecnologia per somministrare durante il largo della giornata una piccola dose di concentrati per aumentare l'ingestione di cuire e le unità dei mombro all'interno del rumine e quindi efficientare al massimo anche l'ingestione dei foraggi. Uno degli aspetti che mi piacciono tanto di questo tipo di tecnologia è la sua semplicità. E questo influenza in maniera importante il prezzo, cioè si riesce a strappare un prezzo molto basso rispetto alle funzionalità e all'efficienza che poi ti porta questo tipo di tecnologia. Non mi piace questo tipo di tecnologia perché non è stata... forse non mi piace, non è neanche il termine giusto. È un tipo di tecnologia prevettata per maiali, quindi suini o bovini, bovini da carne o da latte. Quindi la quantità di mangime di concentrato all'interno dei basatori volumetrici minima che io posso somministrare nei mali è troppa. E quindi di conseguenza a volte, in base alla quantità di mangime somministrata, non riesco a dare da mangiare più di quattro volte al giorno. L'unica miglioria che posso trovare a questo tipo di impianto è la costruzione ad hoc per dosatori volumetrici per ubicaprilico, con un quantitativo di mangime minimo più basso. E quindi di conseguenza aumentare il numero di pasti germanieri. Questo sicuramente è un altro aspetto sulla quale si può migliorare.